Con l'offerta dei ceri a Beato Gregorio X si è aperto ufficialmente l'anno giostresco 2017, una celebrazione che si svolge da ormai vent'anni. I quattro quartieri della città, preceduti dal gruppo Sbandieratori, dal gruppo Musici William Monci e dall'associazione Signa Arezzi, si sono recati in cattedrale per rendere omaggio a Papa Gregorio X nell'anniversario della sua morte con la donazione dei ceri votivi. È una tradizione antica che ogni comunità rivolge ai suoi santi patroni come si fa per San Donato e come risulta dagli antichi statuti di Arezzo del 1327 nei quali è sancito che Papa Gregorio dovesse essere festeggiato con una grande cerimonia e col dono dell'offerta dei ceri. Poiché si è scelto di iniziare l'anno giostresco nel mese di gennaio, l'offerta dei quartieri ai santi patroni viene rivolta al beato Gregorio nel giorno della sua festa, il 10 gennaio. Gli arettini hanno il privilegio di vivere in una città che ha conservato un Papa tra le proprie mura e aver avuto il primo conclave con questo nome. La presenza dei figuranti è un atto di riconoscenza, se abbiamo la cattedrale è anche grazie a lui. Poi c'è un preciso riferimento storico, i costumi del Saracino si rifanno agli anni del 1200 e questo è il vero periodo che la giostra vuole rievocare. Guglielmino e Gregorio X inoltre sono contemporanei, sono stati al concilio insieme, anche per questo si è voluto che accanto al beato riposasse dopo secoli il signore vescovo di Arezzo collocato nei fondamenti della cattedrale.